E ben ritrovati a tutti amici nerazzurri, siamo qui con un nuovo video di internews.it Siamo qui oggi per parlare di Inter Milan ovviamente perché siamo alla vigilia del derby Hanno parlato entrambi gli allenatori in conferenza stampa, quindi sia Paolo Fonseca alle 14 che Simone Inzaghi alle 14.30 Prima però di iniziare il discorso vi invito a lasciare un mi piace come sempre, un commento per dirci la vostra E poi iscrivetevi al canale, tasto iscriviti, campanellina per avere notifiche quando usciranno i nostri video Iscrivetevi a tutti i canali social perché ragazzi lavoriamo 24H, ve lo ripeto sempre Fate un sacrificio per noi, che non è un sacrificio perché è anche gratuito per voi iscrivervi e seguirci Tra l'altro ci saranno importanti aggiornamenti in queste ultime ore proprio perché si avvicina il derby di Milano Ci sono ancora dei dubbi di formazione, Simone Inzaghi lo ha confermato chiaramente in conferenza stampa Perché ha parlato ancora di situazioni da risolvere, soprattutto della fascia destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian Darmian ha giocato 5 partite consecutive, 4 di campionato e una di Champions League le ha giocate tutte da titolare Mentre Denzel Dumfries non ne ha fatta neanche una da titolare, l'unica partita da titolare che ha giocato è stata proprio con l'Olanda in Nations League Quindi penso che giochi Denzel Dumfries anche se, ripeto, Simone Inzaghi ha detto che i dubbi verranno sciolti nell'allenamento di oggi pomeriggio E poi quello di domani mattina tra l'altro novità molto importante riguarda il fatto che comunque Simone Inzaghi Ha deciso di lasciare che i giocatori dormano ad Appiano Gentile Quindi si rimarrà in ritiro prima del derby perché appunto è una partita molto importante Si vuole dare un segnale di coesione ma soprattutto un segnale della priorità che viene data a questa partita Perché è una partita che può essere una svolta sia per una che per l'altra squadra Fonseca l'ha detto chiaramente in conferenza stampa per il Milano può essere una grande occasione per rialzarsi Per trovare la seconda vittoria in stagione perché dopo cinque partite è ad appena una vittoria contro il Venezia Un risultato di 4-0 poi ha ottenuto appena due pareggi con Parma e Lazio e due sconfitte No, con Parma e Lazio, con Lazio e Torino e due sconfitte con Parma e Liverpool Tra l'altro l'ultima pessima, forse la peggiore della stagione anche più di quella di Parma E appunto, ripeto, le squadre arrivano da due momenti completamente opposti Anche se alla fine il campionato ci dice che il Milan viene da una vittoria con il Venezia E l'Inter da un pareggio dell'utente contro il Monza Però l'impegno europeo ha portato e ha dato comunque dei messaggi molto diversi Perché l'Inter per 80 minuti ha tenuto testa al Manchester City La squadra più forte d'Europa, lo possiamo dire chiaramente Ha rischiato di vincere e esce anche con qualche rimpianto dalla sfida dell'Etihad Stadium In Inghilterra, quindi anche in trasferta Il Milan esce invece distrutto dall'impegno europeo contro il Liverpool Perché perde per 3-1 ma il risultato può anche essere accettato Cioè ci sta a perdere 3-1 con il Liverpool, è una squadra direttamente più forte Non è accettabile assolutamente l'atteggiamento della squadra di Paolo Fonseca nel secondo tempo Perché per una buona mezz'ora non c'è stata la propria partita Il Milan dopo il gol del 3-1 non ha avuto una reazione, un minimo di orgoglio Non l'ha mostrato E di fatti i tifosi al 75esimo hanno cominciato ad abbandonare lo stadio E hanno cominciato ad aizzare cori contro i giocatori e contro la società Quindi l'ambiente rosso-nero non è un ambiente adesso carico di entusiasmo Per questo appunto credo che il derby possa essere un momento di svolta per loro Il mio unico timore nella partita di domani sarà esclusivamente questo Cioè il fatto che il Milan possa avere una reazione d'orgoglio Che lo stesso Fonseca possa portare ad una reazione d'orgoglio Perché oggettivamente i valori sono completamente diversi in questo momento La rosa del Milan è sicuramente forte Ma è stata allenata fino ad adesso male È stata gestita male La dirigenza non sta facendo un lavoro forse adeguato E non sono nessuno per dirlo, per giudicare Però comunque i risultati ci dimostrano questo In questo momento noi ci atteniamo ai risultati Perché seguiamo l'Inter del Milan Sì, seguiamo però non sappiamo tutti i dettagli Quindi non si può parlare fino in fondo della situazione rosso-nera Però diciamo che il campo ci dice che è una squadra in crisi Una squadra che comunque non viene apprezzata dal tifo Una squadra che ha bisogno di una partita come il derby Perché oggi ad oggi ha molto più bisogno il Milan del derby che l'Inter E vi spiego il motivo Perché il Milan vincendo il derby potrebbe comunque Porterà la conferma di Paolo Fonseca O comunque in generale potrebbe svoltare completamente la stagione Perché sarebbe una vittoria che darebbe immensa fiducia Dopo i sei derby persi consecutivi degli ultimi anni E dopo la sensazione di inferiorità che ha dato il Milan negli ultimi anni Nei confronti all'Inter Mentre per l'Inter arriva in un momento in cui comunque Ci sono grandi consapevolezze, grandi certezze circa il livello della squadra E le ambizioni che ha la squadra stessa Però dopo un pareggio dell'utente con il Monza Quindi diciamo che le squadre sono in una situazione opposta Anche se alla fine dopo quattro giornate i punti di distanza sono solo tre Rivedo Tra l'altro ecco oggi sono fissa con la parola ripeto I valori delle squadre secondo me non dico che sono simili Ma comunque il Milan viene molto sottovalutato Perché è una rosa di grande livello Domani giocherà tra le probabili formazioni Si giocherà Magnan Che rientra dall'infortunio Diciamo dal lieve infortunio che ha avuto contro il Liverpool Sarà a disposizione quindi partirà dal primo minuto A destra è emerso al Royale Perché Calabria ha avuto un affaticamento muscolare E quindi non sarà presente Tomori, Pavlovic sono i favoriti anche su Gabbia A sinistra Teo Hernandez Poi centrocampo Loftucic, Fofana, Reinders sulla tre quarti Leopulisic e poi Abram favorito per ora su Morata Speriamo che giochi Abram Perché Morata è un attaccante un po' indigesto al club nero-azzurro Mentre per l'Inter ci saranno i soliti L'unico dubbio è appunto Matteo Darmian O in generale la fascia destra Non si sa se giocherà effettivamente Matteo Darmian o Denzel Dumfries Per ora si dice Denzel Dumfries Ma anche con il Manchester City credevo giocasse Dumfries Alla fine ha giocato Darmian Ha fatto anche un'ottima partita Se non fosse stato per quel erroraccio davanti alla porta Però appunto quello purtroppo non è il suo mestiere Non è quello per cui gioca E quindi dobbiamo accettarlo per quello che è Sicuramente un ottimo giocatore Un giocatore d'utile, utilissimo alla causa Però appunto quella caratteristica non è parte delle sue capacità L'Inter giocherà quindi con Sommer in porta Pavar, Bastoni e Acerbi in difesa Dumfries Darmian a ballottaggio Centrocampo c'è la no club barella Mkhitary in intoccabili Nonostante la grandissima prestazione di Zielinski contro il Manchester City A sinistra Carlos Augusto per ora è favorito su Di Marco Anche se Di Marco sta recuperando e potrebbe giocare dal primo minuto Ripeto dipende sempre dall'allenamento di quest'oggi E quello di domani mattina da Piano Gentile Dove la squadra rimarrà a dormire Attacco tra Lautaro Martinez Inzaghi ci tiene a ribadire che non esiste nessun caso intorno a Lautaro Martinez Che il giocatore semplicemente ha giocato un anno consecutivo senza mai fermarsi Ha fatto la Coppa America È tornato più tardi rispetto agli altri giocatori Ha saltato un mese di preparazione Non ha fatto nessun amichevole È partito poi con l'Argentina per gli impegni di settembre Ha fatto due partite quindi 180 minuti di gioco Ragazzi Lautaro Martinez ha caricato fino ad adesso Quindi è normale che la condizione fisica non sia delle migliori Scusate il cambio di voce per Oserse Cosmi È normale che la condizione fisica non sia delle migliori Io purtroppo le maledizioni le sto tirando perché ce l'ho al fantacalcio Cioè veramente mi sta a maledizione Ho una maledizione sul fantacalcio purtroppo Chi prendo va male Quindi speriamo che Lautaro Martinez non viva la mia maledizione E speriamo che torni al gol Anche perché il derby è una partita che sente molto Una partita in cui segna molto spesso Noi ovviamente lo aspettiamo Anche perché l'unica difficoltà di questa partita Sarà esclusivamente legata alla reazione che avrà il Milan Perché? Perché l'Inter è in un momento sicuramente più positivo Perché l'Inter forse possiamo dirlo è superiore Nel gioco, in ciò che ha fatto vedere Nei giocatori che ha a disposizione Nella rosa comunque che è stata costruita a Simone Enzaghi Però comunque il Milan può far vedere Può sfruttare questo derby per dare un segnale al campionato Per dire io ci sono per lo scudetto Noi ci siamo per lo scudetto E anche per dare un segnale di vicinanza a Paolo Fonseca Che sembra veramente un uomo solo al comando al Milan Perché si comincia a parlare di sostituti già Di terzi, c'è presente Paris Saint Germain-Milan Sì, è Paris Saint Germain-Milan Milan-Liverpool, scusate Di Sarri, di Tudor C'è già di sostituti Si parla dopo appena quattro giornate Una di Champions League Quindi non è che la società stia molto vicina a Paolo Fonseca Che quindi vede il derby come la sua grande occasione Lo ha detto in conferenza stampa La sua grande occasione è quella anche del Milan Per sfruttare comunque anche il fatto che oggi ci sarà Juventus-Napoli Quindi potrà recuperare punti importanti E potrà comunque nel caso vincesse Ribaltare gli equilibri cittadini Che da sei derby, da tre anni quasi Non hanno visto proprio uguali Tra l'altro nella storia Nessuna squadra di Milano ha mai vinto sette derby consecutivi Sarebbe la prima volta proprio in assoluto Quindi i numeri sono quasi anche dalla parte del Milan Però ripeto Atteniamoci a quello che vediamo Atteniamoci a quello che potrebbe essere il derby di Milano Il primo derby di Milano della stagione 2024-2025 Io non mi voglio sbilanciare perché per me il derby è una partita a sé Vivendo io a Roma Comunque vivo in maniera diretta Lazio-Roma E anche qui ci sono derby in cui una squadra spavoritissima all'inizio E per i pronostici poi sorprende e si porta a casa una vittoria Potrebbe succedere anche a Milano tranquillamente perché il derby, ripeto, non è una partita su 38 del campionato È la partita su 38 del campionato Vale 3 punti, sì, ma fino a una certa Perché non penso che Fonseca creda che questo derby valga 3 punti Per lui vale molto di più Vale anche una panchina Vale la fiducia della dirigenza Vale la lotta per lo scudetto Perché comunque questo Milan se perdesse oggi Comunque perderebbe molto terreno dalla lotta a scudetto In generale molta fiducia in vista della lotta per lo scudetto Al contrario l'Inter invece potrebbe dare un ulteriore segnale della sua superiorità E quindi una vittoria darebbe ancora più fiducia E forse sarebbe il risultato decisivo per iniziare poi la lotta per il primo posto Che ancora ovviamente non è entrata nel vivo perché siamo appena alla quarta giornata La quinta domani Quindi c'è ancora tempo per recuperare Per questo non ho mai fatto drammi per i pareggi di Genova e Monza Non sono questi i risultati che saranno decisivi alla fine della stagione Perché l'Inter ha ancora partite su partite per dimostrare il suo valore Vi ringrazio per avermi seguito Per averci seguito Vi chiedo di lasciare un mi piace Gratuito Già ve l'ho detto prima Un commento per dirci la vostra sul derby Perché io ripeto non mi sono sbilanciato Però credo che l'Inter possa fare bene Ho paura della reazione d'orgoglio del Milan Solo quella Ho paura di quella grande reazione d'orgoglio Che può portare Paolo Fonseca E speriamo che non sia così impattante E che non sorprenda l'interdizione Inzaghi Il fatto che comunque anche i giocatori dormono da piano gentile Che rimangano in ritiro Quindi che rimangano tutti insieme Comunque mi dà profonda fiducia Perché vuol dire che comunque la squadra sta capendo l'importanza della partita E lo stesso Inzaghi ha capito l'importanza della partita Vi invito ad iscrivervi al canale Il tasto iscriviti come sempre vi ho detto Campanellina per avere notifiche quando usciranno i nostri video Vi ringrazio per averci seguito Vi dico sempre Forza Inter Vi dico speriamo di vincere il derby E di portarci a casa il settimo consecutivo E vi saluto Ciao ragazzi Per restare sempre aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 Su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore Se sei interista Non puoi non aver già scaricato gratuitamente E recensito l'app Android o iOS Per avere sempre a portata di mano Le ultime notizie sull'Inter Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Telegram Se sei in cerca di approfondimenti Ed esclusive a tinte nero-azzurre Internews.it è quello che fa per te